Hai infiammato un derby nei fiammi molti dichiarando meglio sconfitto che milanista E tu o di Prisco? No, è mia, è mia, è mia Prisco è il numero uno Ma io sono il numero due Su queste battute io sono sempre stato abbastanza pesantino Dopo un derby di Coppa Italia prendiamo tre gol nei primi quindici minuti Poi nell'intervallo Baresi venne davanti a me e mi fece così Ah veramente? Mi incazzai come una bestia E per due anni non parlai a nessun milanista Io mi ricordo che con Maldini Ma questi erano veri derby ragazzi Non sono come adesso che entrono mano nella mano Si accarezzano Cioè noi prima ci si insultava prima del derby Pensa che prima non c'era nemmeno Non c'era nemmeno la... non ci si faceva il riscaldamento in capo Baresi in una palestrina piccolina E c'erano tutte e due le squadre E dunque io cosa facevo? Cominciavo a ottenere qualche pallonata dall'altra parte Per dargli il pastino Poi girando per cominciare a fomentare un po' questo derby Come fanno i bambini ai giardinetti Così si fa Così? Non da fare così Ma infatti i derby secondo me mancano le parole Fare le parole lì